Un problema alla rete idrica ha causato una perdita d'acqua nella zona di via Leonida Bissolati, nel tratto che separa il Palazzo di Giustizia dalla caserma della Guardia di Finanza. Alcuni cittadini hanno notato una copiosa perdita d'acqua che ha dato origine a un vero e proprio fumiciattolo in un tratto dove, tra le altre cose, l'asfalto è completamente inesistente e hanno subito segnalato l'accaduto alla nostra redazione e anche a Caltacqua. Le immagini realizzate dal nostro operatore documentano il disservizio, visto che nell'area c'erano parecchi mezzi parcheggiati e la strada era diventata quasi impraticabile per i pedoni. L'accumulo di acqua, infatti, dovuto alla copiosa fuoriuscita idrica, ha formato in alcuni punti delle pozzanghere melmose. L'asfalto, infatti, non è uniforme e in alcuni tratti è del tutto mancante, in quanto detriti e terriccio ne hanno preso il posto. Una volta partita la segnalazione sono arrivati sul posto tecnici operai di Caltacqua che hanno lavorato a lungo per identificare la natura del problema e per porvi il rimedio, riportando la situazione alla normalità.